In un romanzo che ha la forma impeccabile e seducente della favola, attraverso personaggi che lottano intorno a temi come l'esistenza di Dio e il libero arbitrio, Jill Patton Walsh esplora il rapporto tra la tolleranza e la certezza morale, tra la tenerezza e l'istinto omicida degli esseri umani. Grazie.